Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra serie dell'Aulissicraft Buonasera, sono le ore 20, ieri è uscito un episodio in realtà dopo, credo due giorni Dopo due giorni che non uscivo all'Aulissicraft, mi scuso però Era un episodio sempre registrato ma ho avuto un po' di problemi a renderizzarlo Quindi poi l'ho fatto uscire tranquillamente Ci ho anche lavorato parecchio su quell'episodio, quindi mi raccomandate a vederlo se non l'avete visto Ma passiamo alle cose importanti Benvenuti oggi in questa nuova puntata E prima di iniziare voglio farmi una premessa Se è uscito un vlog alle 18 probabilmente, non me lo ricordo se l'ho fatto uscire ieri Quindi quando sto vedendo questo video, no in realtà domani Quando state vedendo questo video Oppure un altro giorno, l'importante è uscire a un vlog in questi giorni alle 18 Quindi guardatelo e divertitevi se anche vi divertite con le cose brutte Comunque a parte questo ragazzi, io oggi devo fare una cosa importante Ovvero, 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 importantissima Iniziare la nostra Magical Crop, finalmente Non la faremo principalmente in tipo posti brutti e carini Perché, cioè, brutti e carini non può andare assieme Partiamo con questo prossimo posto Però vorrei farla per adesso iniziare Anche perché devo farmare Robaccia E Robaccia si intende cose belle Cose belle intende anche coli, diciamo, semini Che ci porteranno ad avere materiali infiniti Quindi che facciamo? Torniamo alla nostra piccola zona dei macchinari Tranquillamente E andiamo a raccimolare Non dico pochi, non dico nemmeno tanti Ma abbastanza stack di... Dove diamine? Sono di Minicio Che io ho in quantità sovraumane Un K Vabbè Ne recuperiamo 326 320 Ok, quindi c'avevo 1200 Cosa del genere Perfetto E questo Minicio mi servirà per creare i nostri primi semi Quindi andiamo qui in Magical Crops E vediamo cosa bisogna fare per iniziare Allora, ovviamente possiamo creare le nostre piccole fornaci Che vanno fatte di accio L'accio si fa con la Wic Infusion Che si fa, porca di quella vacca Con anche un bloc di gold Meno male, ragazzi Che se c'era soltanto l'Emerald Come era su un altro modpack Era un bel problema Comunque Emerald Diamond Golden Block Golden Block No, Gold Block Gold Block direi che ci conviene Perché è specialmente quello che abbiamo in più E ci andiamo a creare la nostra prima e fantastica Pietra filosofale Che non è proprio una pietra filosofale È una pietra, ok? Che ci servirà per fare i nostri primi lavori Infatti con questa pietra Che è una Wic Infusion Stone Che ha durabilità di 256 Possiamo trasformare il Minicio in accio Wow E quindi, bam Abbiamo creato Tipo Oddio Credo di avere abbastanza roba Per poter fare Poter creare Tipo uno stack di accio Che già è una buona cosa E no Non si tratta di Harry Potter Se mi state chiedendo accio Sì, sì Harry Potter Non c'entra nulla, ok? Quindi no Harry Potter non c'è Eccolo qua L'accio ci servirà Per creare i nostri primi semi Infatti La Magical Drop Si basa sui semi Ok? Ogni materiale del mondo Almeno la maggior parte Ha la possibilità di essere farmato Come una normale piantina Farming Quindi come vedete Abbiamo l'air seed Che ci dà l'aria E non lo so Non lo so che serve Abbiamo il coal seed Il die seed L'air seed E credo Anche Minicio Seed che sembra di fare il Minicio Però Minicio Lui consiglio di fare una cosa Mettete il suo piccone Fortuna Andate a scavarlo Perché davvero Farmare Minicio È stupido È stupido davvero Io non lo faccio Ma natural seed E credo di arrivare Ok fino alla water seeds Ragazzi Arriviamo a craftare L'acqua E si craftano tutti i collaccio Dopo la water seed Ovvero la redstone La glowstone L'ossidiana L'ossidiana mi piacerebbe un sacco Farmare La nether seeds Ok quindi probabilmente Saranno i bricks E l'iron seeds Gold seeds E tutto il resto Si craftano con Surrogati dell'imperio Quindi si parte Surrogati significa Derivati Quindi qualcosa che Va fatto dal Dal nostro Accio Quindi l'accio Come sapete Andando avanti Sempre con un'altra stone Con una regola Questa volta Non quella standard Ci dà l'accio Cioè ci dà Scusatemi il crucio Il crucio a sua volta Ci darà l'imperio E l'imperio finalmente Ci darà il zivicio Lo zivicio E O lo zivicio O lo zivicio In realtà Credo si dica più lo zivicio Servirà poi per craftare Che cosa È il nostro piccone Già sappiamo È infinito No questa Lascia il piccone La bugia Che non mi serve Lascia serve Lascia infinita Unbreakable Quindi una cosa bellissima Che ovviamente bisogna fare Passando per i vari Vari step Quindi passando da Ascio e tutto il resto Quindi per il momento La cosa che ci conviene fare Sicuramente È iniziare a creare I nostri primi seed Io andrei tanto tanto Per i die seed Per un semplice motivo I die seed Sono molto buoni Per fare Diciamo Molte cose Che in genere Ci mancano sempre Che cosa Per esempio I coloranti Ragazzi Con i die seed Possiamo fare tutti i coloranti Del mondo E quindi questo significa Avere un quantitettivo Di coloranti Sempre disponibile Non dover andare a cercare In giro Che ne so A colori blu Rosso E strani colori Solamente che mi servirà Un seed adesso Che devo trovare qui in mezzo Qui abbiamo anche un po' Di industrial hemp Che poi dovremmo anche farmare In futuro Perché servirà per Fare un paio di cosette Eccolo qua Il nostro semino Perfetto Magari cerco un paio di semini Che sarebbe un'ottima idea Recuperati E quindi si va a fare In questo modo Prima di tutto I seed di minicio Perché i seed di minicio Sono diciamo Cioè si fanno Ma non si farmano Ok Perché servono per fare Gli altri seed Ok quindi Bam minicio seed Fatti sette Coloranti Coloranti Ma che coloranti Possiamo metterci qua Credo di avere Un paio di dye Aspettiamo un po' Allora dye Non ce l'ho manco Cioè C'ho due di dandelion Che vanno bene E forse C'ho anche I black ink Lì c'è l'ink sack Ragazzi Quelli per fare No non ce li ho E ho un altro dandelion Quindi mi sa che mi conviene Tanto tanto Andare a macerare Quel dandelion E utilizzarlo per cose Qui abbiamo Un sacco di materiali Come vedete Perché siamo sempre Alla ricerca di materiali Ed è da due giorni Che non apro la list Quindi sono piuttosto infelice Ho qui del ferro L'avete visto? Bam ferro C'è in realtà Più che altro il copper Però c'è anche il ferro E insomma Bisogna andare quindi A craftare questi piccoli amichetti Mi ricordatevi sempre Di metterlo nel pulverizer Così vi da 4 Al posto di 2 Anzi al posto di 1 In questo caso E' comunque una buona cosa Sinceramente Quindi va bene Si mette un semino e mezzo E ovviamente Il resto è accio Perfetto Un dye seed Abbiamo fatto Una cosa importante Questo dye seed Quando lo piazzate Non può crescere col bombilla E' un po' una stronzata Non lo so però Non può crescere col bombilla Può invece essere aumentato Utilizzando quel macchinario L'abbiamo creato Per le patate Lo ricordate? No Andate a vedere L'episodio iniziali Dall'oliscop E poi vi ricorderete Che cosa abbiamo fatto Mentre può essere usato Su di Su di Su di esso Credo il plant grow accelerator Quindi A fiducia Io andrei a piazzarlo qua Fricamente Credo non si può Che credo non abbia bisogno dell'acqua O forse Non lo so Quindi prendiamoci una Quindi Quindi se io lo mettessi qua Adesso dovrebbe Tipo crescere In teoria Non sono sicuro di questa cosa Comunque guardate Altri di sopra Ci dice che cosa ci droppa E ovviamente C'è il plant grow accelerator Ma non sembra influire Quindi mi sa Quasi quasi Che non funziona più Oh no Funziona Funziona ok Molto lentamente Cioè in realtà Se mettessi questo Semino qua Per esempio Dovrebbe crescere A modi Non so Velocissimo Ok Già in realtà È troppo lento di suo Però eh sì Su plant grow accelerator Sembrano funzionare Molto Ma molto Più velocemente Quindi facciamolo crescere Dopo vi faccio vedere A che serve il drop Che ci dà Comunque è già cresciuto Calmati grow Cioè ma è maturo ragazzi Perfetto Si dovrebbe recuperare Col tasto destro Non si può fare Si va a recuperare così Ok si rompe normalmente E ce l'ha ripiazzato Sbaglio No ce l'ha ripiazzato Perché è figo Quindi ci sta Questo piccolo Technicolor essence Tutti i derivati Dei semini Si chiamano essence Ok Mi raccomando importante Può creare Link suck Le rose red Le purple dye Fai questi qui Che ci servono I cactus green E tutti quasi Scoloranti Perché si chiama Dai Quindi fai coloranti E ci servono 8 di questi Per poter craftare 8 di questi O comunque 8 dei semini Che si fanno Con l'accio Per craftare La regola In future stone E quindi fare L'imperio Ovviamente E l'imperio Quello che viene dopo Che poi non mi ricordo mai No il crucio Viene dopo qui Quindi fare il crucio Quindi noi semplicemente Adesso rompiamo tutto E la cosa interessante Come vedete Che ripianta in automatico I nostri seed Cerchiamo di arrivare A 8 di questi seed Per poter iniziare A creare La nostra prossima farm Perché è importante Andare avanti Con questi crop In genere Non faccio tutti In realtà i semini Della magical crop Ma in questa serie Vorrei fare uno spazio Bello grandicello Con ogni zona Cioè il minimo Della zona possibile Della enderio O anche tranquillamente Del Non lo so Anche il farmer Della progressive automation Per fare una farm Gigantesca Di quasi Semino possibile Immaginabile Per poi Immagazzinare Da qualche parte Che non So bene Dove farò Insomma Perché dovrò ancora Fare l'applet Quindi magari Facciamo nell'applet Magari logistic Chi lo sa Vi ricordate Quando mi avete detto Nei commenti Ulisse Puoi usare La mela di smeraldo Per fare Tipo I potenziamenti Speciali Col Col canister Quello Quello verde Beh ho scoperto Che in realtà Esiste nella magical crop L'amera d'apple E questo ci dà Un gran vantaggio Perché non devo Inserire nessuna mod io Figo Grazie magical crop Poi ve lo odiate Siete delle merde Siete Perché Che bella Magical crop E si Qui sto Continuando a farmare C'ho 5 ancora Me ne sa Un'altra 3 E ne abbiamo 8 Ok Ci serve adesso Fare così Questo Più questo Ci darà Questo Ta 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 Questa è la final fantasy Questa era Final fantasy Esatto Me ne servono 4 Quindi andiamo a fare 4 4 E 4 E ta ta Ragazzi miei Abbiamo il nostro bellissimo Crucio Perfetto E in realtà Uno me ne bastava Vabbè Facciamone 4 Crucio Che possiamo fare col Crucio In realtà Pensavo che i primi Utili sarebbero stati L'ossidiana Quindi andiamo Di ossidiana E ovviamente I siti di ossidiana Deranno l'ossidiana Ovviamente È palese Come cosa Però non so Se è l'ossidiana Libera Quindi Aspettate che torno Un attimo Credo di avere Un po' di ossidiana Rimanente da scavi Antecedenti A cose Perché io ho fatto così Ce li ho Ok perfetto C'ho uno stack addirittura In realtà Non uno stack Ma 63 blocchi Siamo precisi 4 Perfetto E ovviamente Ci abbiamo già Minicio seed Facciamo A 4 A 4 si Mi servono in realtà Per fare così Ok era giusto Ho fatto bene Meno male che La mia testa Pensa Cioè Pensa si stante Perché io Non mi ricordo Perché ne ho fatti i 4 Però la testa Mi ha detto No devi farne i 4 Perché stavano I fare i seed Ok grazie testa Sei molto utile E quindi BAM Fatto questo coso Ossidian coso Ossidian coso E piazziamo quindi qua L'ossidiana E quindi Bello I die of seed Ne abbiamo due Perché in realtà Ogni tot Può dropparci anche Un altro pezzo Quindi va bene Mi hanno recuperato pure Un altro pezzo di die No in realtà ne ho fatti due No in realtà ne ho fatti uno Perché ne ho due Perché me ne ha droppato uno a caso Nel senso che C'è probabilità che mi esca un drop E se volete vedere i drop Dalla neia Andate qui E anzi con la U O col tasso destro Se avete voglia E vi dice Ehi guarda Seed da Obsidian Essence E ovviamente Obsidian seeds Danno Obsidian Essence Quindi figata E tadan ovviamente Si rompe Ci da l'ossidiana E questo Crafterà Ah crafterà anche Unbreakable 1 Perché c'è un lincianto Ovviamente Lincianto si fanno in questo modo L'experance ex Ex perché però si fa con Roba Ed è difficile fare questo coso Perché bisogna fare Bisogna fare l'imperio E non credo oggi Ci faremo a fare Oggi probabilmente Arriverremo a fare l'imperio Ci farmeremo lì Perché Poi voglio fare una farm Perché Ok sì Posso mettermi qui A farmare oggetti Però sinceramente Non è bello Ok Comunque vedete Mi ha troppato un altro simino Quindi sì Probabilità molto scarna Ma c'è Di ricevere Un altro pezzettino Un altro seed Per vivere felici e contenti Grazie Minecraft Tu sì Sai come farmi felice Grazie Minecraft Comunque Giusto per farvi capire Mele Faccio vedere qua Mele Cioè sono mele ovunque Perché in realtà Il mio barrel è pieno di mele E quindi Questo significa che Presto le useremo In che modo Sta a voi Sceglierlo O capirlo Io direi più capirlo Perché in realtà Scelto l'ho già scelto Quindi voi sapete In che modo useremo Le mele Vero? Lo spero Perché se in realtà Ehi non sapete nulla Di mod Vabbè capita Però imparerete Fa nulla Ce ne abbiamo otto Che bello Grazie Minecraft Quindi adesso Adesso si va a fare Questo più questo E abbiamo la strong Che Ah ovviamente Una cosa importante Questo 256 Questo 512 Questo 1024 Il prossimo sarà 2048 Easy Cioè il codice binario Ci sta Ok Ora In realtà Sapete che possiamo usare Direttamente la strong Ok quella che ho preso giusta Per fare direttamente Quelli dopo Scherzavo Era una stronzata Bisogna far forza il crucio Ok Che ne abbiamo 11 Non ne abbiamo 12 Perché ovviamente Uno l'abbiamo già usato Ricordate abbiamo fatto tipo 4 E abbiamo fatto Ricciamo a fare 2 imperio solamente E Visto che ci siamo Io andrei a rubare I 56 stack No I 5 stack Abbiamo qui dentro Di Crucio Di Minicio Però No uno stack lo lascio Perché in realtà Mi serve Quindi Minicio rubato Andiamo a craftarci Finalmente Il nostro Il nostro imperio Giusto stavolta Beh sì L'imperio l'abbiamo fatto Che abbiamo 2 solamente E già questo va bene Perché così Ci mettiamo Davvero molto bene Quindi Facciamo in questo modo Io lo faccio sempre In una puntata Sta cosa Di passare Ad ogni grado Anche se Come ho già detto Poi farò le farm Quindi Per il momento Facciamoci 1 2 3 E 4 Più ovviamente Tutte le altre Wic Quindi facciamo Wic Poi Cioè ragazzi Questi qua Da 4 stack Sono riuscite a fare a malapena Sapete quanti Cioè 16 Cioè vi rendete conto 16 Di queste cose Che sono davvero pochi Però va bene Perché è giusto così Cioè non è giusto così Ma va bene Ok Imperio fatto Abbiamo bisogno di Un materiale Che vogliamo portare a imperio E io andrei per il gold Perché il gold farmato È molto più figo Fatti i gold seed Si va a farmare anche questi E visto che ci siamo A questo punto Io inizierei a richiamare Velocemente A parte A parte i 3 diamanti Bisogna fare l'ascia Anche Tipo Va facciamo così 1 2 Spera no Ho sbagliato 1 2 3 4 stack 5 6 7 8 8 Che sono 500 Tanta roba Ok E va bene Ci facciamo la nostra Bellissima ascia Così possiamo già iniziare Se possibile A fare la nostra ascia Figa e bella Che va fatta Ora in modo figo Quindi magari Wic Facciamo Così 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 Bam Abbiamo dell'accia Non fate qualcuno Mi scrive Eh bravi bravi Voi che mi scrivete Se siete persone orrende Non dovete scrivermi Bam E non era così Era così Mitrolli Ah con 4 Ok Ok Ne ho fatte un po' troppi Ne ho fatte Vabbè dai Tanta fiducia Ne ho fatte sempre di più Ne abbiamo fatti Perfetto E poi ovviamente Si va avanti Peccato che non so tanto Eh bravo Riesco a fare tranquillamente Un altro di questo Facciamo così Aspettate Dove è la seconda Quindi questa qui Abbiamo un altro pezzettino Di bellissimo crucio E col crucio Vi faccio anche questa qua La crucio axe E visto che abbiamo Così tanta voglia Di andare avanti Ci facciamo addirittura Anche l'altra Quindi tranquillamente Craftiamo questi 6 Minicio seed Scusatemi Non Minicio seed Ma Minicio essence In imperio Così abbiamo finalmente La nostra imperio axe E visto che In realtà Noi abbiamo già Fatto anche Il zivicio Prendiamo 4 di zivicio E dovremmo aver completato Anche la nostra Bellissima ascia Quindi in teoria Adesso dovremmo avere Anche la zivicio axe Perfetto Ci rimane da Buttare via Le mele Ok Come si buttano le mele Qua Addio mele Sarete sempre ricordate Nel mio cuore Una bugia Mi fanno schifo Quindi va bene E qui rompiamo sto coso Rompiamo anche sto semino E ci mettiamo quest'ascia Che adesso sarà immortale Vero è un break ball Ok Vediamo un po' Perché sei stato Piantato su un soil Che dovrebbe essere Per i seed Comunque Dimmi che funziona bene No perché Perché è un break ball È un break ball Non dovrebbe usarla Ragà Non ha senso Quindi ok Ok che dura un Fottio E ci siamo Però è un break ball Dai Mi trolli Ok vabbè ragazzi Lascia la super figa Della tinker Va fatta Per forza E vabbè Bene per il momento Piazziamo questa roba Qui dentro Tutti i semi Che abbiamo craftato Tutto il resto E io vi direi Che per questa puntata Potrebbe essere Anche tutto Mi raccomando Lasciate un bel like A vedere il video Delle 18 Che è importante Comunque Qui abbiamo un po' Di posticini Cioè in realtà Abbiamo già non abbiamo Posticini Abbiamo tanto questo posto Libero Vedete che la faccia di qua Oppure qui lasciamo Il laboratorio Come abbiamo pensato E ci creiamo Un posticino Da qualche parte Per le farm A voi la scelta Mi raccomando Ditemelo Qui è stato nei commenti Noi ci vediamo domani Con la prossima puntata Alle ore 20 Mi raccomando Da Ulisse è tutto Ciao ciao E al prossimo video